Ciao, sono Simone Brancozzi e oggi facciamo un ulteriore video sulla registrazione di alcuni fatti aziendali che possono accadere. Questi video li faccio anche per sfatare il comune dire che la contabilità sia una cosa complicata e soprattutto di tutti quei colleghi che dicono la contabilità come la faccio io non la fa nessuno. Molto spesso oggi ci occupiamo della registrazione dell'anticipo salvo buon fine, quindi delle ricevute bancarie ma anche delle fatture, non cambia assolutamente niente. Molto spesso quando mi trovo a vedere dei bilanci dove è previsto appunto l'utilizzo da parte dell'azienda dell'anticipazione salvo buon fine, mi trovo di fronte a un orrore, non un errore, a un orrore contabile.